Un nuovo caso di Covid-19 riscontrato oggi in Abruzzo, nella provincia di Pescara. Si conferma così il trend degli ultimi giorni nella nostra regione. Otto guariti in più rispetto a ieri, che attestano il numero delle persone attualmente positive dal virus in Abruzzo a quota 145. Di queste, 27 sono ricoverate in terapia non intensiva, una persona in meno rispetto a ieri, mentre in 118, meno 7 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nessun paziente affetto da coronavirus è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati eseguiti 111.752 test, che hanno portato all'individuazione di 3.310 contagi. Del totale, 229 sono residenti o domiciliati nella provincia dell'Aquila, 827 in quella di Chieti, 1593 in quella di Pescara, 632 nella provincia di Teramo, 26 provengono da fuori regione, mentre di tre casi non è indicata la provenienza. Finora il Covid-19 in Abruzzo è costato 464 vite. I numeri dell'emergenza sono forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità. Grazie.